Partecipare a questo progetto è stato davvero emozionante. Per la creazione dell'allestimento della mostra ci siamo ispirati alla natura e alla sua semplicità, fondendo così le esigenze estetiche di Vivian Suter con il messaggio di salvaguardia ambientale che vogliamo trasmettere. Ecco perché abbiamo scelto di realizzare una casa in legno per le sue tele, una struttura che si fa portatrice dalle valori di sostenibilità che sia Marlenio che l'artista vogliono comunicare. Grazie a tutti.